Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo episodio, episodio numero 12 se non sbaglio, della nostra Mastery con il Livorno Signori, negli scorsi due video ci siamo concentrati sul mercato, è stato un po' una merda, però va bene, però va bene, però va bene Abbiamo comprato due giocatori, faccio un attimino un piccolo di recap per chi magari non ha visto i due video Abbiamo comprato Gas Gas, che è un colombiano di 19 anni se non sbaglio, non lo riesco a vedere da nessuna parte Perché non mi dice quanto cazzo allora di anni hai, ah no, 20 anni, me lo dice lì nella schermata principale Io andavo a cercare chissà che cosa, non si sa dove, che non sembrerebbe tanto male, tanto male Quindi vediamo, vediamo come si comporta E poi abbiamo preso anche un nuovo attaccante, Utaka, di 22 anni, anche lui messo abbastanza bene Solo che è convocato in nazionale il bastardo e quindi già neanche il tempo di arrivare che già se ne è andato, signori Quindi non potrà giocare la prima di campionato, ma la faremo giocare a Gas Gas, signori E vediamo un attimino come siamo messi Siamo sotto con i fondi, perché giustamente abbiamo speso un po' po', abbiamo venduto Vidigal Vidigal, però abbiamo delle partite per poter cercare di rientrare nei budget, signori Abbiamo tante partite, tante partite, abbiamo una promozione da andarci a conquistare sul campo E quindi ci proviamo, signori Detto questo, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, i piaciuti e per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, signori Che dobbiamo crescere sempre di più e ho bisogno del vostro supporto, signori Renne Livorno Porca miseria, signori Giochiamo contro la prima in campionato E dobbiamo cercare di vincere Dobbiamo cercare di vincere, signori Se vogliamo continuare a credere nel sogno Promozione Nella fase della classifica Sì Ah no, il primo è Seviglia Il Renne ce l'abbiamo a un punto E porca miseria, dobbiamo vincere per forza, signori Dobbiamo vincere per forza contro il Renne Per cercare, perché salgono le prime due E noi abbiamo l'obiettivo di salire in serie A, signori Dai, 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 dai Ho capito tutto Sì, fammi giocare che devo provare il nuovo Gas Gas Per vedere come si muove Sulla tre quarti Dai, cazzarola, dai, cazzarola Dai, gas Gas Ho bisogno di te Gas Gas Certo, ci fosse stato Utaka Saremmo stati tutti molto più contenti E invece Utaka Si è andato a fare Si è andato a divertirsi in nazionale Grandissimo il recupero di del Tongo Tarara Che poi la perde subito, signori Il Tongo mio L'andata, se non sbaglio Con il Renne L'abbiamo pareggiata Che cazzarola fate? Riusciamo a levargli sto pallone? Gli facciamo fare tutto quello che vuole? Penso che gli facciamo fare tutto quello che vuole Amelia 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 mio, mannaggia a te I miei hanno problemi di... Luccare Cosa cazzarola ci fai lì, Luccarelli? Luccare Cazzarola fa lì Grandissimo Ciaramitaro Grandissimo Ciarà Grandissimo Ciarà Ciarà, Ciarà, Ciarà Gas 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 Buone passaggio Fermati, fermati, fermati Bravissimo Guardalo, guardalo Guarda Bravo, fallo Bravo, bravo Rossetti La tira gas gas, signori La tira gas gas Senza problemi La tira gas gas Troppo alta Troppo alta Troppo alta Troppo alta Va bene A chi Calma, calma, calma signori Calma, relax Calma No, no, no Senza rigore Bravo Bello Grande cross Grandissimo questo cross Il Ren sta... Grandissimo Ciarà Grandissimo Ciarà Guardalo, guardalo, guardalo Voglio toglierlo subito A Lucarelli Mannaggia, va bene Dai che è fuori È nostro È nostro È nostro È nostra Ma chi? Ma... No, vabbè Vargas Dai, dai, calma Calma, dai Signori Questi stanno a premestelare In maniera impressionante Cioè, vogliono mettere al sicuro Il secondo posto Se ci battono, signori Se ci battono Questi mettono Gas gas Grande gas gas Nel movimento Grandissimo gas gas Nel movimento Guarda Rossetti Guarda Rossetti Rossetti mio Inventati qualcosa Bravissimo nel momento Per entrare Rossetti Rossetti Provaci No Ciarà mitaro Non ci arriva di testa Mannaggia La stoppi bene? Ok I miei hanno sempre problemi Di stop di pallone No 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 Senza fallo Senza No 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 Cosa cazzo L'abbè è successo Signori Gli abbiamo fatto Tre sgambetti E il pallone Ce l'ha sempre lui Però Incredibile Ciarà mitaro Mio Porca miseria Infame Ciarà mitaro Mio Tiene fisicamente Ciarà mitaro Ma poi Niente Pallone fuori Rimessa per Noi Ok Riusciamo Siamo quelli con la maglia bianca Riusciamo a fare un passaggio giusto Ok Calma 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 Relax Grandoni Grandoni No Non mi puoi fischiare La fine del primo tempo Ora signori Gas gas Si è visto Cioè Ha avuto due belle accelerazioni E poi è sparito completamente Va bene Va bene Va bene Ma noi non ci facciamo Non ci facciamo Non ci facciamo Preoccupare Signori Rossetti Rossetti Vede gas gas Vede gas gas Bravo nel movimento gas gas Il colombiano Gas 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 Riesce ad entrare Gas 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 Nonnaggia Gas gas è il nostro nuovo popangita Guardalo come corre gas gas Si però dobbiamo dobbiamo segnare signori Dobbiamo vincere la sta partita Perché ci servono punti per il campionato E soprattutto punti per gli stipendi Perché siamo un attimino sotto con Con gli stipendi Nooo L'ha mollata a metà strada Via 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 I partiti in controlla Grandoni Grandoni Per Ok signori Siamo tornati Siamo tornati Dovuto mettere Dovuto Porca miseria Dovuto lasciare un attimo Mettere il gioco in un attimo in pausa Perché mi hanno bussato Attenzione Gas 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 Dai che non lo ferma Gas gas Dai che non lo ferma Grandissima la palla per Lucarelli Che riesce a entrare in aria Lucarelli Porca miseria Porca Porca miseria Porca Nooo Mamma mia Come ci ha driblato male Come ci ha driblato male Nooo Gambardoni è andato a frago E quando lo recuperi a questo Gambardoni E quando lo recuperi a questo Nooo Amelio 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 Grandissima Amelio Via 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 Dimmi che la palla arriva buona Rossetti Rossetti Prende un pestone Ma arriva gas gas Signori Gas gas Gran partita di gas gas Ecco Ma io perché parlo Ma io perché parlo Signori Eh ma Pallone elevato Pallone riconquistato Rossetti 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 Non è ancora velocissimo Grandissimo momento di Rossetti Grandissimo momento di Rossetti Che cerca Ciaro Amitaro Oh è rigore Era rigore Dai cazzarola Era rigore Era rigore Era rigore Era rigore Era rigore Era rigore Non mi sta bene Pareggiare con il Ren Signori Non mi sta bene Rossetti Rossetti Grandissimo Rossetti In movimento Mannaggia 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 85esimo Niente signori Niente signori Niente da fare signori No Perché indietro Perché indietro Sto pallone Pefzel 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 No Dovevo passarlo subito Pefzel Neanche un minuto in recupero Dai Sei bastardo Però se non è nemmeno Varga E finisce così Signori 0-0 Con il Ren Non va bene Ci serviva a vincere Con il Ren Signori Pareggiamo di nuovo Pareggiamo di nuovo Speriamo che l'arrivo di Utaka Alla davanti Ci dia più 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 Precisione in porta Perché così Andiamo Andiamo molto a rilento Andiamo molto a rilento Signori Procediamo Procediamo Con Nel Tornare al menu Principale Così andiamo Un po' A rilento Questa cosa Non è buona Però va bene Potiamo a casa 4.000 punti Siamo a 9.100 Siamo comunque Il gioco di risalga No però Dai dai Tutta la squadra Migliora un poco Del Tonko Migliora di tanto Ceramitaro Gambardoni Gasgas Migliora Speriamo Possiamo migliorare Ancora di più Rossetti Deve migliorare Tanto Cazzo Rossetti Deve migliorare Tanto Va bene Va bene Va bene Signori Manteniamo la stessa Distanza Da Ren Il Siviglia Sicuramente Avrà vinto E se ne sarà Andato via Come Come Sarà scappato Signori Però Ricordiamo Il nostro obiettivo È il secondo posto A questo punto E soprattutto E soprattutto Riuscire a rientrare Con i soldi Dello stipito Degli stipendi Detto questo Signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao